Un parcheggio di 96 biciclette per integrare la mobilità tra le due ruote e la stazione ferroviaria è già attiva la velo stazione di Molfetta che permetterà di cambiare progressivamente il volto di Piazza Aldomoro passando dal connubio tra bici e treno. Il servizio è gestito dalla mobilità e trasporti Molfetta con il supporto di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana. Nei nostri programmi è quella di riuscire ad arrivare dopo una fase sperimentale ad avere la velo stazione aperta H24. Speriamo intanto di poter dare un servizio molto importante perché comunque la velo stazione rappresenta almeno quella di Molfetta come voi potete vedere presenta un colpo d'occhio veramente molto bello e quindi un biglietto da visita anche per i tanti viaggiatori che incrociano la nostra città. Non soltanto un'occasione di sostenibilità dei trasporti ma anche un sistema attraverso cui migliorare l'estetica di Piazza Aldomoro e di tutta Molfetta sul muro che affianca la velo stazione è comparso un murales in cui si intrecciano natura, territorio e salvaguardia dell'ambiente. Un messaggio in linea con la necessità di affidarsi a mezzi di trasporto diversi dalle auto. È una cosa utilissima per chi ama la bicicletta e bisogna incentivare le persone ad utilizzarla. Serve ai cittadini, serve anche per chi viaggia fuori Molfetta e per chi viene da altre parti verso Molfetta. Al via la fase sperimentale della velo stazione con l'accesso al servizio gratuito dal lunedì al sabato dalle 7 alle 10 e dalle 14 alle 19 mentre la domenica sarà disponibile dalle 9 alle 13 l'obiettivo è quello di renderlo fruibile 24 ore su 24 attraverso un QR code. Ci sarà la presenza di personale in loco che consentirà a tutti quanti vorranno eventualmente utilizzare la vostra stazione di compilare una modulistica, di ottenere un codice di accesso, dopodiché deposito una bicicletta la utilizzano soltanto nelle ore in cui è aperta.